se in veneto gran parte dei carnevali sono stati rimandati tra ieri e oggi a causa del maltempo quello di dese è un caso a parte qui in questa piccola frazione di favaro veneto nell'area metropolitana di venezia si è deciso di sfidare la pioggia e bisogna dirlo sfida accettata e vinta per la gioia dei bambini che hanno riempito la via principale per far festa a venezia il carnevale entra nel vivo e non solo nella laguna ma anche nella terraferma dove molteplici sono le iniziative che si susseguiranno tra febbraio e marzo e più attese saranno le sfilate di mestre e ritorno dopo 18 anni dei carri accampato come mai questo casco così o diciamo che ho scelto per per fare un rinnovamento così voi da dove arrivate noi siamo da martellago i vestiti sono fatti tutti dalle mamme cuciti tagliati c'è un grande lavoro ma alla fine c'è una bellissima soddisfazione ma questa mummia parla anche come scusa non sento niente prima sfilata in casa prima sfilata in casa e domenica prossima riposo dopo andiamo in altre parti mogliano marco un quarto d'altino avete un po sfidato il tempo però si è andata bene ieri dovevamo andare a preganzio non ce l'abbiamo fatta e oggi sfidiamo il tempo la gente c'è grazie a tutti adese la giornata è proseguita nell'area parrocchiale con un ristoro zfischmar channel news dese